Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Vertigoval. A cosa serve? Vertigoval ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori di minerali. È commercializzato in Italia dall'azienda Neofarmad Gentili S.P.A. Informazioni commerciali. Titolare. Valeas S.P.A. Concessionario. Neofarmad Gentili S.P.A. Categoria di appartenenza. Integratori di minerali. Forma farmaceutica. Compressa. Confezioni. Vertigoval 20 compresse. Modalità d'uso. 1. Compressa. Per 2 volte al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. Descrizione e caratteristiche. Integratore alimentare a base di citicolina, vinitrox, zenzero, melissa e vitamina B6, utile in caso di aumentato fa bisogno o ridotto apporto con la dieta di tali nutrienti. La citicolina ha un nutriente presente in tutte le cellule dell'organismo con molteplici e fondamentali funzioni. Vinitrox ha un composto caratterizzato da attività antiossidante. Lo zenzero, estratto secco, si ha dimostrato molto efficace nel trattamento della nausea e del vomito. La vitamina B6 riveste un ruolo nella regolazione dei livelli di omocisteina nei vasi ematici. Avvertenze. Non ha consigliata l'assunzione durante la gravidanza e l'allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata di uno stile di vita sano. Conservazione. Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato. Ingredienti stabilizzanti. Cellulosa microcristallina, fosfato di calcico, carbossimetilcellulosa sodica, citicolina sodica, melissa, melissa officinalis L, foglie, estratto secco, supporto, maltodestrina, zenzero, zingiberoficinalis rosc, rizoma, estratto secco, supporto, amido, maltodestrina, vinitrox, mela e uva, malus domestica bork, frutti, vitis vinitera L, semi, estratto secco, allergene, solfiti, agenti di resistenza, monoe di gliceridi degli acidi grassi, agenti antiagglomeranti, biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi, agenti di rivestimento, E464, E460, E570, E472A, cloridrato di peridossina, vitamina B6, coloranti. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.